L'ex corteggiatrice torna in studio su richiesta del nuovo tronista ma, come entra, se ne esce poiché non interessata al campano. Un ritorno fugace, una richiesta inattesa e un no grazie che ha chiuso ogni speranza al tronista. Beatrice Dorsi torna nello studio di Uomini e Donne su richiesta del nuovo tronista Daniele Paudice. Per qualche puntata hanno condiviso lo stesso studio, da prospettive diverse, lui tronista e lei corteggiatrice di Brando. Ora che i giochi si sono chiusi, per lei, Daniele ha chiesto alla redazione di sedere nel parterre delle sue corteggiatriche. Per quel poco che ho visto, quando non c'è stata scelta, ha spiegato il tronista, so che è magari una cosa prematura, ma siccome mi sentivo che non venivi scelta, se a te fa piacere. Non è tanto il tempo, io sono pronta a rimettermi in gioco, ha dichiarato l'ex corteggiatrice, sono spiazzata, ti ringrazio ma non sono interessata. Senza troppi giri di parole la giovane milanese ha chiuso ogni speranza al campano.